Due mari pugliesi, l'Adriatico e l'Oionio, vedetta di una terra protesa verso altre terre, rappresenta per gli organizzatori il simbolo della vocazione delle genti di Puglia all'accoglienza. La Puglia a Milano, un grande rapporto umano, sociale e storico. Oggi molto sangue pugliese circola nelle arterie laboriose dell'economia e delle istituzioni meneghine. Il premio ricorda origini e impegni ed esalta attitudini, creatività, disponibilità alla cultura dell'accoglienza. Cala il sipario sull'ottava edizione, ma Giuseppe Selvaggi e i suoi stanno già pensando all'edizione 2014. Non si può che concludere questo lavoro con le parole del dinamico presidente dell'Associazione dei pugliesi a Milano, Dino Abasciato. Allora, all'edizione 2014, prego il direttore vuole aggiungere qualcosa. Per dire che c'è stato un sketch eccezionale di Teocoli, uno dei premiati, un numero sensazionale che abbiamo registrato e quindi io metterò su affaritaliani.it. Per cui i pugliesi che si fossero persi la diretta stasera lo trovano online. È imperdibile Teocoli. Perfetto, grazie per questa precisazione. Allora, dicevo, ci vediamo alla prossima edizione, quella 2014. 2014 naturalmente è una cosa certa, abbiamo già la presentatrice. Grazie. Grazie.